Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti a questo appuntamento con la bottega didattica la rubrica per il fai da te nell'ambito delle tecnologie dell'apprendimento in questo appuntamento vorrei parlarvi di Forall Rubrics una applicazione free disponibile sul web per la creazione e la gestione di rubriche di valutazione in questo video tutorial potrete vedere come si crea una rubrica con questa applicazione e anche un esempio di utilizzo di questa rubrica per valutare i lavori degli studenti si tratta di un argomento piuttosto complesso perché chiama in causa la didattica per competenze il compito autentico, la valutazione in questo ambito e quindi per chi volesse approfondire questi argomenti e queste tematiche ho inserito alcuni link consiglio soprattutto di guardare il video tutorial presente su scuola interattiva dedicato alle rubriche di valutazione a cosa sono e alle loro tipologie rubrica analitica e rubrica olistica e il video tutorial su Forall Rubrics realizzato da Luciana Cino che offre una panoramica generale su questa applicazione mentre io mirerò soprattutto a illustrare le modalità operative con cui compiere le procedure che ho indicato ci sono anche altri link renderò poi disponibile questa presentazione nell'info box del video e anche la troverete il link alcuni di questi link qui in alto sulla destra nelle schede di YouTube vediamo adesso quali sono gli utilizzi che possiamo fare di questa applicazione in ambito didattico bene, sono quelli di una rubrica di valutazione infatti Forall Rubrics consente di creare rubriche online per valutare le competenze bene, chiariamo subito che cosa intendiamo per competenze l'argomento sarebbe infinito noi limitiamoci operativamente a definire una caratteristica delle competenze le competenze si esercitano e compaiono sempre in relazione a un compito assegnato a qualcuno, un individuo, un gruppo di individui un compito da portare a termine e sono sempre contestuali cioè le competenze compaiono sempre in attività che sono correlate a una situazione molto specifica possiamo quindi dire che le competenze entrano in gioco tutte le volte che noi utilizziamo le nostre conoscenze le nostre abilità per affrontare determinate situazioni nell'ambito di una certa attività volta a realizzare un determinato compito e quindi, anche se questa è una definizione eccessivamente riduzionistica schematica e non del tutto corretta le competenze sono la traduzione in ambito operativo delle conoscenze e delle abilità quindi è chiaro che non si possono valutare come si valutano le conoscenze occorre quindi definire dei criteri che individuino le capacità in atto che io voglio valutare cioè le competenze definire degli indicatori che traducano in termini osservativi queste capacità e all'interno di un indicatore definire dei livelli che descrivano il grado di padronanza di possesso di una determinata competenza vediamo adesso cosa posso fare con questa applicazione posso creare rubriche di valutazione sia analitiche che ulistiche e soprattutto posso salvarle archiviandole ordinatamente posso anche costruire cartelle dove inserire rubriche classificate per tipologia posso condividere queste rubriche con altri docenti o usare rubriche modificandole magari per adattare le mie esigenze realizzate da altri docenti posso poi valutare molto rapidamente i lavori che mi arrivano degli studenti tramite Edmodo tramite Google Doc inoltre do un feedback immediato agli studenti su quanto hanno realizzato posso assegnare dei badge e comunicare rapidamente i risultati inoltre posso impostare e gestire delle attività ponendo termini di scadenza periodi eccetera per la panoramica generale ricordo che rimando al video tutorial di Luciana Cino bene questa è la pagina iniziale di Furon Rubrics adesso io mi connetterò logandomi con la mia password come si fa a creare una rubrica una nuova rubrica clicco su design qui ho le rubriche che ho creato fino ad oggi ho anche qualche esempio creiamo una nuova rubrica pulsante in alto a destra bene io mostrerò come si crea una rubrica ma esistono anche altre possibilità badge checklist andiamo sulla rubrica questa è una rubrica già impostata abbiamo le sezioni qui c'è scritto item quindi argomenti temi poi abbiamo i vari descrittori e i livelli di possesso di questo descrittore che indica una capacità naturalmente il tutto è in inglese e io posso modificare quindi prima di tutto andiamo nella forma avanzata di editing e qui come vedete ho una serie di campi da riempire qui prima di tutto il titolo per esempio devo valutare un esercizio che ho affidato ai miei alunni scriverò il titolo storytelling collezione collezione la lasciamo qui perché posso appunto anche cambiare la collezione qui ho varie rubriche adesso lasciamola qui argomento diciamo che l'area tematica è studi sociali sarebbe storia l'autore sono io posso inserire qui dei tag per esempio esercizio storia narrazione separati da virgole eccetera a questo punto cominciamo a lavorare su questa rubrica prima di tutto come chiameremo questa sezione io la chiamo competenze mediali con questa rubrica dovrò valutare dei video delle narrazioni video delle video narrazioni dei miei studenti bene la prima competenza mediale è l'audio in questo caso io voglio monitorare e valutare la qualità dell'audio la qualità del suono a questo punto le colonne di questa riga indicheranno il livello in cui questa capacità di utilizzare lo strumento per avere un suono pulito ed efficace è stato raggiunto sono quattro in questo caso le colonne posso per esempio tenerne tre basta che clicchi sulla croce e cancellerò come vedete la quarta colonna posso anche cambiare i colori giallo lasciamolo rosso bene questo sarà il livello più basso e avrò un punto proviamo adesso a scrivere qualcosa qui scriveremo il suono non è pulito l'audio non è perfettamente udibile qui scriviamo un livello intermedio di padronanza di questo aspetto di questa competenza sono abbastanza pulito eccetera eccetera e qui il livello massimo un consiglio opportuno a seconda del tipo di attività che si deve andare a valutare discutere la griglia con gli studenti cioè discutere questa rubrica con gli studenti io ho fatto così abbiamo discusso insieme su quali fossero i criteri quali competenze dovessimo valutare in che modo indicare il livello di padronanza di queste competenze questo li rende anche più consapevoli li agevola nell'esecuzione del loro lavoro scriviamo adesso una seconda competenza per esempio la recitazione infatti si tratta di raccontare in prima persona con immagini e con la voce in un video in forma quindi quasi autobiografica le vicende di un personaggio aggiungiamo i vari livelli bene e il programma segnerà automaticamente un punto due punti come si legge qui e tre punti alla valutazione del singolo lavoro che sto appunto correggendo posso naturalmente anche cambiare le etichette di queste tre colonne posso per esempio scrivere qui minimo adesso caviamocela così qui posso scrivere sufficiente e qui posso scrivere per esempio ottimo per indicare appunto i tre livelli bene notiamo che abbiamo punteggio per uno cosa vuol dire? vuol dire che per esempio con gli studenti abbiamo deciso di dare più valore alla recitazione rispetto alla pulizia e qualità del suono e quindi io posso indicare due due punto zero cosa vuol dire? vuol dire che verrà moltiplicato questo punteggio indicato qui verrà moltiplicato per due quindi avremo due punti quattro punti e sei punti posso naturalmente anche modificare il punteggio e qui inserire per esempio due punti qui tre e così via in questo caso comunque lasciamo inalterato il punteggio segnato automaticamente bene supponiamo di aver finito posso cancellare queste altre voci in inglese posso fare anche un'altra cosa ovviamente io non starò a valutare solo le competenze mediali valuterò per esempio anche le competenze disciplinari per esempio quindi apriamo una nuova sezione nella nostra rubrica cancelliamo queste qui si fa in modo molto semplice la cancellare e aggiungiamo una sezione con questo pulsante ecco qua la nuova sezione e la chiameremo competenze per esempio disciplinari e procederò anche qui a compilare questa sezione della mia rubrica come vedete ho completato la mia rubrica ho definito tutti i livelli indicato tutte le competenze che volevo valutare è stato un lavoro facilitato dal confronto con gli studenti che si sono anche resi conto della complessità della valutazione e però hanno avuto anche delle linee guida per la realizzazione del loro lavoro bene a questo punto la mia rubrica è pronta e posso esaminare i lavori che gli alunni mi hanno spedito tramite Edmodo andrò su my class ecco qui sono le mie classi quarta SB adesso ho visualizzato la classe quarta SB adesso devo selezionare la rubrica media education come vedete alcune valutazioni sono già state effettuate breve spiegazione di queste icone in questo caso ho già pubblicato i risultati e lo studente può vederli nella sua pagina anche in questo caso sono stati pubblicati qui non sono stati ancora pubblicati posso stampare la rubrica di questo studente posso inviare i risultati via mail visualizzarli o cancellare questa valutazione se ci sono dei problemi o ho fatto degli errori bene procediamo adesso a compilare la rubrica di valutazione di Matteo alla faccia della privacy ecco qua come si fa osservo il suo lavoro e in questo caso per esempio compilo selezionando le voci che stanno ad indicare i livelli di padronanza che lui ha di queste capacità chiedo scusa di queste competenze ecco poniamoci a questo allora a questo punto automaticamente so che ha preso 33 45 circa 7,5 se non sbaglio tradotto in decimi la cosa interessante è che posso anche aggiungere un commento è chiaro che si tratta comunque di rubriche standard e si può personalizzare però aggiungendo un commento adesso sto scrivendo un po' a caso salvo il mio commento che come vedete comparerà qui e poteva anche essere molto più lungo diciamo che ho concluso qui mi compare la data ecco fatto vedete che adesso mi compare la rubrica di Matteo Pizzichini 33,45 e io adesso posso anche pubblicarla anzi andiamo a pubblicare queste e così via naturalmente la gestione della classe è accessibile da questo menu il menu dell'admin per esempio gestione ecco manage manage student il modo più semplice almeno io ho proceduto mandando sul gruppo whatsapp che condivido con la classe il link clicco qui questo è il link lo copio e lo incollo su whatsapp in questo modo gli studenti cliccando su questo link non hanno bisogno nemmeno di questo codice si registrano e immediatamente hanno a disposizione il loro spazio su for all rubrics torniamo nella mia library ecco qua queste sono non è la mia library chiedo scusa queste sono tutte le rubriche presenti su for all rubrics ce ne sono tantissime possiamo frugarle vedere se ci vanno bene riadattarle alle nostre esigenze e invece posso ordinare le mie rubriche in varie collezioni queste sono alcune prove queste per valutare testi per testi riassunti per valutare lavori multimediali e così via e quindi posso anche ordinarle per trovarle più facilmente posso duplicarle modificarle leggermente e via dicendo a questo punto posso anche uscire ricordo che in questa pagina troverete come anche nell'info box e in alto a destra del video le schede con link o comunque in questa pagina troverete un articolo di Gianni Marconato in cui vengono esaminati i compiti autentici e come sviluppare le competenze attraverso i compiti autentici troverete un articolo sulle rubriche valutative e qui troverete molti video e molti articoli che trattano di didattica per competenze di compito autentico di rubriche di valutazione e via dicendo è una raccolta di articoli post e video su PerlTree bene è tutto vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e vi ringrazio e vi ringrazio e vi ringrazio